Dalla Serie C alla Serie A2 inanellando tre promozioni in quattro anni. E' questa l'impresa delle ragazze del Tennis Club Baratov che domenica 11 luglio hanno centrato un traguardo storico per il tennis pesarese vincendo in casa il turno di ritorno dello spareggio promozione con le rivali di Montecchio. Un'impresa firmata da Matilde Magrini, Emma Ferrini, Gioia Barbieri, Carlotta Mercolini e Francesca Tassi. Ragazze formidabili capitanate dai coach Luca Pavoni e Giovanni Bottai. Posso dire che non ci aspettavamo assolutamente questo risultato soprattutto a inizio campionato ma anche durante il campionato è stato un traguardo che non ci aspettavamo e semplicemente partita dopo partita siamo arrivati a questo risultato. Quale pensi sia stata la chiave di questo successo visto che lo reputi inaspettato? Probabilmente l'unione che c'è tra noi giocatrici, i capitani e anche tutto il circolo e la chiave a livello di partita è stata secondo me la vittoria con Copertino che era prima in classifica in casa il 2 giugno mi pare. Quanto si alza ora l'asticella per voi? Probabilmente lo scopriremo solo il prossimo anno e cercheremo di alzare sempre l'asticella perché siamo contenti di giocare per il circolo e giocare partita dopo partita per dare il meglio di noi. Una cavalcata dalla Serie C alla 2 femminile costruita su un movimento sportivo fatto di lavoro, lungimiranza e programmazione accompagnata dai benauguranti risultati di piccoli tennisti e tenniste che consentono di guardare con ulteriore fiducia al futuro. Abbiamo conseguito diversi campionati regionali a livello under quindi per far notare la forza del nostro vivaio, della nostra scuola Tennis Life che è nominata Top School a livello Italia e quindi la forza di queste ragazzine che conseguono campionati individuali, campionati a squadra per poi portarsi a rendersi disponibili per le prime squadre, la Serie C che è completamente composta da ragazzine del nostro vivaio per poi portarsi anche, chissà mai, un primo poi in prima squadra che appunto dal 2022 parteciperemo al campionato di Serie A2. Nell'Under 10 appunto abbiamo conseguito finali nel maschile con Cordella Lorenzo e con Pierini e Lisa, battute solamente in finale. Nell'Under 13 abbiamo conseguito una finale tutta Baratov con la vittoria di Pistola Ilari su Pierini. L'Under 14 femminile abbiamo conseguito il campionato individuale con Maria Stella Musarra e per finire l'Under 16 femminile, tutte ragazze quindi, con Tassi Francesca appunto il campionato Under 16. e per finire l'Under 14 femminile, tutte ragazze quindi, con Tassi Francesca appunto il campionato